martedì a pochi giorni dei nuovi concerti di prince italia 1 dedica l'intera notte al grande genio di minneapolis in prima visione assoluta il suo primo film e il recentissimo sign up time in più i video di love sexy e un'esclusiva intervista al protagonista indiscusso della musica nera americana per martedì a partire dalle 22 e 30 una buona notte prez da italia 1 con la stagione estiva torna in primo piano il personaggio musicale degli anni 80 roger nelson prez un nuovo disco nuovo film e una nuova straordinaria torne tra pochi giorni in italia in occasione di questo grande evento domani sera italia 1 dedica tutta la notte al genio di minneapolis alle 22 e 30 speciale prince ea seguire i film purple rain e amnord cherry moon notte prince domani sera dalle 22 e 30 su italia 1